Quindi cambiando ospedale, cioè sia la visita pneumologica eccetera è stata fatta in maniera più approfondita eccetera, cioè quando un medico ha tanto tatto anche il paziente non subissero shock così. Mi ci sono trovata benissimo nel senso che sotto il profilo umano eccetera anche nel tener conto del pregresso dell'anamnesia eccetera anche appunto addirittura lei stessa mi ha fatto la prescrizione per quella dell'anno dopo. Quindi significa veramente un'attenzione al paziente giusta. Diciamo che da una struttura ospedaliera all'altra ci sono differenze, obiettivamente ci sono differenze. Quindi se si riesce a trovare quella giusta si è seguiti meglio. Mi dà l'appuntamento, non mi fa aspettare il laboratorio, ma non solo a me anche altri. Ma la comunicazione è molto meglio perché prima cosa quando ha visto la mia patologia così lui aveva l'idea di cambiare il mio medicinale però non me l'ha cambiato, ha voluto sentire il preumologo. Se mi sono messo in contatti come sono in contatti anche adesso. mi dice qualora? Ah perché poi le ho detto in due anni che è qui. Quante volte mi ha visitato? Mai. E ma lei non me l'ha chiesto. Io ho un preumologo che qualsiasi orario che lo chiamo che non sta bene mi risponde. E una volta si trovava a Londra e mi ha risposto. Finalmente ho trovato una pneumologa in gambissima, una certa dottoressa Bezzi. Mi ha fatto questa broncoscospia e questa macchia che vedevano nell'altro ospedale era semplicemente un pisello. E poi mi sono messa naturalmente in cura da lei. Lei usa vari sistemi fatti da lei. Per alcuni enfisematosi mette delle valvole, fa altre cose meno invasive. E ho visto il mio ex marito ne è un esempio perché è da 15 anni che sta molto ma molto bene. Non ha più bisogno dell'ossigeno, non ha più bisogno di niente. Poi lei ti manda in queste cliniche dove c'è, questi ospedali insomma dove fanno una buona riabilitazione. Veramente io sono molto seguita da questa dottoressa. Dopo aver cambiato tanti medici e solo da pochi anni a trovare un bravo medico che però io penso di avere anche perso perché penso che non lavora più a Roma. Comunque un bravo medico giovane, molto motivato, molto empatico che mi ha appunto, che ha preparato per me una terapia appunto che ha aggredito le varie cause della patologia e io effettivamente sono migliorata in questi ultimi tempi. È un broncopneumologo che ho conosciuto durante la sua specializzazione nell'ambito poi dei controlli cui io periodicamente mi sottopongo per via dell'intervento. Intanto per esempio ci siamo dati del tu e quindi questo già ha creato un rapporto. Io credo che i giovani medici oggi siano formati anche per avere un diverso atteggiamento nei confronti del malato, è un pochino più paritario, quindi penso che questo sia frutto anche di una nuova concezione del medico. Però non so, è un'alchimia particolare che si è creata tra me e lui, per cui insomma, ecco io li riconosco, questo fatto di aver creato una terapia se vuoi su di me e di avermi fatto capire l'importanza comunque di non abbandonarla la terapia. Cioè gli altri medici sono stati inefficaci nel senso che io non ho avuto nessun miglioramento con gli altri medici ed anzi probabilmente ho avuto dei peggioramenti perché appunto se si fossero intervenuti prima. I farmaci li prendo sempre costantemente e anzi mano a mano che si va avanti li sostituisco con farmaci sempre più, la scienza medica va avanti. Tra un centro e l'altro poi ho avuto una fortuna grande perché ho trovato un centro veramente pronto, lì sempre a Milano e un professore che mi ha presa con cura e con molta umanità, con molta attenzione, non so se posso fare il nome, si tratta del dottor Banfi che è primario del reparto di pneumologia dell'istituto Santa Maria nascente. Questa persona oltre a darmi la sua esperienza mi ha anche aiutata ad affrontare questo problema. Mi è stato sempre molto vicino ecco. Un modo di trattare con me molto dolce e questo credo che sia una grande fortuna perché anche nei momenti quando ho delle crisi un po' serie e sono un po' preoccupata allora chiedo di vedermi e lui mi ridà fiducia, ha un sorriso dolcissimo.